Bello e buono. Ciao, io sono Ilaria di Laseb.com e benvenuti all'episodio numero 189 del mio podcast Italian Language. In esso troverete tante informazioni per imparare e migliorare l'italiano, ma anche tante curiosità sulla cultura italiana. Nell'episodio di oggi vi spiegherò approfonditamente come utilizzare Bello e Buono. Pronti? Allora cominciamo! Ho deciso di parlarvi di questi due termini in seguito ad un'affermazione fatta da una mia studentessa, il cui livello d'italiano è davvero molto alto. L'affermazione in questione è stata. Pensavo che Buono si usasse solo con i cibi, ma solo ora mi rendo conto che non è così. Inutile dire che questa frase mi ha dato un bel po' da pensare. Io ho cominciato a riflettere sulla necessità di spiegare questi termini dettagliatamente. D'altronde, se una ragazza che sta per affrontare l'esame C1 ha questo tipo di dubbi, la situazione non può che essere peggiore per tutti quegli studenti che hanno un livello più basso. E allora, cerchiamo di scendere più nel dettaglio per spiegare meglio l'uso di Bello e Buono. Uso di Bello Bello significa handsome, pretty, good looking, ma anche nice. Bello in italiano fa sicuramente riferimento a caratteristiche fisiche, il famoso esteticamente bello, ma non solo, ed è usato per descrivere persone, animali, cose e situazioni. A questo punto potreste dirmi che Bello si usa praticamente per tutto e non potrei darvi torto, ma proprio per questo vorrei fornirvi degli esempi che spero rendano l'uso di questa parola più chiaro. Vediamoli insieme. Sapete che quel ragazzo ha vinto il titolo di Più Bello d'Italia? È davvero una bella persona. In questi due primi esempi, Bello è usato con le persone, ma nel primo caso nel senso di bell'aspetto, nel secondo di interiormente bello, cioè brava persona o buon essere umano. È davvero un bel disegno, complimenti! Il bel disegno della frase non fa riferimento solo al fatto che il disegno segue dei canoni che per una data società sono considerati belli, ma in senso più ampio fa riferimento ad un lavoro ben fatto, in cui determinati principi sono rispettati e in cui la tecnica è usata e impeccabile. A mio parere Luigi è il cane più bello del mondo. Anche in questo caso, il mio modo di parlare del cane è piuttosto generico. Con Bello, infatti. Non intendo solo la bellezza in sé per sé, ma anche il suo essere carino, affettuoso, coccolone. Insomma, altre caratteristiche positive che mi permettono di apprezzarlo molto. Non era una bella situazione, ma ce la siamo cavata ugualmente. In quest'ultimo caso, il trovarsi in una situazione non bella fa riferimento ad una condizione non ottimale. Una condizione che sarebbe stato meglio non dover affrontare, proprio perché non era delle le migliori. Uso di buono. Buono, invece, significa principalmente good, ma in alcuni casi potrebbe anche essere tradotto con nice. Un esempio che mi viene in mente è il famoso heaven is day inglese, che in italiano diventa buona giornata. Come affermato dalla mia studentessa, non c'è ombra di dubbio che buono si usi con i cibi, ma non solamente con essi. Un po' come detto per bello, si usa anche per le persone, gli animali e per parlare di situazioni varie. Ad esempio, sono andato in un ristorante e ho mangiato un antipasto molto buono. Secondo te il pesto è ancora buono? Sta in frigo da più di una settimana. In questi due casi, in cui parliamo di cibo, buono si riferisce al sapore, delizioso, saporito e alla qualità del cibo. È una persona così buona che si fa sempre in quattro per tutti. Se sarai buono, Babbo Natale ti porterà qualcosa di bello. Ecco altre due frasi in cui c'è l'aggettivo buono, ma in questi casi, visto che si parla di persone, si usa buono nel senso di brava persona, di qualcuno che si comporta nel migliore dei modi nei confronti del prossimo o, come nel secondo caso, che dovrebbe comportarsi meglio. Per molti, il pesce rosso non è un buon animale da compagnia. Quel cane è buono e intelligente, fa tutto quello che gli si chiede. In questi esempi, buono compare di nuovo, ma questa volta con una sfumatura ancora diversa. In particolare, nelle frasi col pesce rosso e col cane, quel buono diventa rispettivamente adatto e ubbidiente, mostrando così tutta la versatilità dell'aggettivo. Buona fortuna! Spero che vada tutto bene! Questa situazione non è affatto buona. Dobbiamo risolverla al più presto. Anche negli ultimi due casi è presente la parola buono, che si riferisce a situazioni che, come potete notare, possono essere più o meno specifiche, ma che contribuiscono a farvi capire la complessità e la versatilità di questa parola. Conclusione I termini bello e buono possono sembrare semplici e banali, dato che, fin dalle primissime lezioni di italiano, gli studenti ci hanno a che fare. In realtà, però, essi possono nascondere insidie e difficoltà, dati numerosi contesti nei quali possono essere usati. Vorrei inoltre farvi notare che la trattazione di queste due parole non si esaurisce qui, perché oltre ai significati che ormai ben conoscete di Pretty, Nice e Good, si usano anche come intensificatori. Di questo, però, ci occuperemo un'altra volta, così da evitare di rendere questa spiegazione troppo lunga e ricca di dettagli e per darvi il tempo necessario a metabolizzare tutte le informazioni fornite fin qui. Se ti è piaciuto questo audio, non perdere l'occasione di dare un'occhiata al mio sito web www.ilaset.com, dove troverai tante altre spiegazioni e curiosità sull'italiano. Grazie. Grazie. Grazie.